Anche nel Biellese, a Natale, numerose sono le iniziative per fare festa e lo scambio di auguri. Pranzi, cene, mercatini, alberi illuminati, presepi meccanici, viventi, originali. Tra questi il presepe gigante di Marchetto, uno dei più grandi d'Italia, allestito nel centro storico di Mosso, a 625 metri di altitudine. Aperto fino a martedì 6 gennaio 2015, tutti i giorni dalle 10 alle 22 ad Entrata Libera. Visitato anche da associazioni quali la 50 e più di Biella, con parte del direttivo ed alcuni soci. Parola ora alle immagini, agliettate dai canti di Nora Mellogrand, accompagnata dalla chitarra da Giovanni Panato. Nel paese presepe di Mosso, centinaia di personaggi a grandezza naturale, ripropongono mestieri dimenticati ed antiche botteghe. Da Mosso, per la redazione di Biella, è tutto. E auguri di buone feste!